Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Se siete nuovi, mi invito a iscrivervi e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati per i prossimi video che usciranno. Oggi voglio vedere con voi alcuni esercizi che sono stati affrontati nel questionario per quanto riguarda la seconda prova scritta di matematica nel liceo scientifico della prova di maturità del 2022. Il mio consiglio però è prima di affrontare questi problemi del questionario di andare a vedere comunque anche la prima parte della prova scritta in cui io avevo affrontato però il primo problema e vi lascio il link qua sopra in modo tale che vi possiate preparare al meglio anche per l'orale. Ora andiamo a vedere invece il questionario e andiamo ad affrontare alcuni di questi quesiti. Io andrò ad affrontare una parte di questi ma se ovviamente voi volete qualche esercizio in particolare scrivetelo pure sotto nei commenti così che io possa fare un altro video in cui affronto gli esercizi di cui avete bisogno. Allora, partiamo con il quesito numero 3. Questo esercizio chiede di risolvere il seguente integrale. Quindi l'integrale dove al numeratore abbiamo 3x al cubo meno x al quadrato più 6x più 4 e al denominatore invece prendiamo 3x meno 1 tutto in dx. Allora, il mio consiglio è per affrontare questo integrale andiamo a fare proprio la divisione tra numeratore e denominatore. Quindi è come se noi stessimo facendo proprio la divisione di due polinomi. Quindi andiamo a fare diviso 3x meno 1. Allora, affinché appunto il primo termine si possa eliminare dobbiamo moltiplicare questo per x al quadrato. Quindi avremo meno 3x al cubo più x alla seconda in modo tale che i primi due termini già li abbiamo levati. Poi abbiamo più 6x più 4. A questo punto per eliminare il più 6x dobbiamo moltiplicare per più 2. A questo punto verrà meno 6x più 2 e quindi il resto, in quanto comunque non possiamo più continuare questa divisione, verrà proprio più 6. Quindi avremo un cosiente di x al quadrato più 2 e il resto più 6. A questo punto, infatti, il nostro integrale lo possiamo scrivere in maniera diversa. Ovvero scriveremo il quoziente, quindi x al quadrato più 2 più il resto fratto il denominatore, quindi 3x meno 1. Tutto in dx. A questo punto voi potete fare o un unico integrale oppure separarlo in più integrali. Il mio consiglio è di separarlo in modo tale che risulti essere anche più semplice. Quindi l'integrale di x al quadrato in dx più l'integrale di 2 in dx più l'integrale di 6 fratto 3x meno 1 tutto in dx. Abbiamo che il primo integrale verrà proprio x al cubo fratto 3, il secondo sarà più 2x, mentre il terzo, il 6, noi lo possiamo anche portare fuori dal nostro integrale. E quindi facciamo direttamente 6 fratto 3 per il logaritmo di 3x meno 1. Per concludere mettiamo più c. Quindi non ci resta altro che questo e questo lo semplifichiamo. Quindi il risultato finale scritto completamente sarà x al cubo fratto 3 più 2x più 2 per il logaritmo di 3x meno 1 più c. E con questo abbiamo risolto appunto l'integrale per quanto riguardava il quesito numero 3. Il prossimo quesito invece che voglio vedere è il numero 4. Il numero 4 dice considera la funzione f di x ovvero x meno 3 quando x è minore o uguale di 4 oppure la radice cubica di k meno x quando x è maggiore di 4. E dobbiamo svolgere sia il punto A che chiede appunto di determinare k in modo tale che la nostra funzione sia continua in R e il punto B ovvero ci chiede che in corrispondenza del valore di k trovato stabilire se la funzione è derivabile in R oppure in caso negativo studiare la natura dei punti di non derivabilità. Quindi andiamoci a scrivere la nostra funzione f di x abbiamo detto che appunto assumerà valore di x meno 3 quando la x è minore o uguale di 4 oppure la radice cubica di k meno x quando invece la x deve essere maggiore di 4. e iniziamo con il punto A ovvero dobbiamo determinare k affinché la nostra funzione sia continua in R quindi andiamo a fare il limite per x che tende a 4 da sinistra della nostra funzione f di x che sarà uguale al limite per x che tende a 4 da destra sempre della nostra funzione. A questo punto non ci resta altro che prendere la nostra funzione ed eguagliare queste due espressioni ovvero dovremmo fare proprio x meno 3 uguale alla radice cubica di k meno x ma la nostra x vale proprio 4 quindi al posto della x andiamo a sostituire 4 in modo tale da trovare poi il k quindi faremo 4 meno 3 uguale alla radice cubica di k meno 4 quindi abbiamo la radice cubica di k meno 4 uguale 1 a questo punto possiamo anche elevare la radice cubica e fare k meno 4 uguale 1 ovvero k sarà proprio uguale a 5 quindi trovato il nostro k possiamo anche procedere con il punto B dove il punto B ci diceva che in corrispondenza di questo k trovato dobbiamo stabilire se la funzione è derivabile in R oppure se non lo fosse trovare i punti di non derivabilità quindi andiamo a riscriverci un attimo la nostra funzione però andando a sostituire il k quindi x meno 3 sempre quando x è minore o uguale di 4 oppure la radice cubica di 5 meno x se la nostra x è maggiore di 4 a questo punto facciamo la derivata prima della nostra funzione quindi la derivata prima sarà uguale a 1 nel primo caso quindi quando sempre la x è minore o uguale di 4 mentre nel secondo caso ovvero quando x è maggiore di 4 sarà proprio meno un terzo per 5 meno x elevato alla meno due terzi andiamo a scriverci questa seconda espressione in maniera diversa quindi sempre la derivata prima sarà uguale a 1 sempre per lo stesso motivo di prima mentre questa la possiamo scrivere come meno 1 al numeratore mentre al denominatore mettiamo 3 per la radice cubica di 5 meno x tutto al quadrato quando x è maggiore di 4 a questo punto dobbiamo vedere se la nostra derivata prima risulta essere continua quindi dobbiamo sempre fare il limite per x che tende a 4 da sinistra e 4 da destra ma in questo caso della derivata prima e uguagliare questi due limiti e andiamo a vedere se appunto uguagliando questi due limiti ci esce la stessa identica cosa ovvero facciamo 1 uguale a meno 1 fratto 3 per la radice cubica di 5 meno 4 tutto al quadrato quindi otteniamo proprio che sarà uguale a 1 uguale a meno 1 fratto 3 e quindi possiamo vedere che è totalmente diverso quindi possiamo dire sicuramente che la nostra funzione non è derivabile in x uguale a 4 ma che x uguale a 4 risulta essere un punto angoloso prossimo esercizio andiamo a vedere invece il quesito 5 dove ci chiede di calcolare il seguente limite ovvero il limite per x che tende a 0 di e elevato alla x meno 1 meno x coseno di x al numeratore al denominatore avremo il seno al quadrato di x facciamo in modo tale che al numeratore ci esca un limite notevole ovvero facciamo al numeratore mettiamo e elevato alla x meno 1 tutto fratto x per x meno x coseno di x e sotto rimaniamo sempre seno al quadrato di x in modo tale che questo che noi abbiamo scritto all'interno della nostra parentesi tonda risulta essere proprio il limite notevole che sarà uguale a 1 in questo modo avremo che al numeratore avremo solamente x meno x coseno di x e al denominatore è sempre la stessa cosa al numeratore mettiamo la x in evidenza quindi facciamo x per 1 meno coseno di x tutto fratto seno al quadrato di x ma se noi moltiplicassimo e dividessimo per x possiamo vedere che ci escono ulteriormente due limiti notevoli ovvero facciamo x al quadrato fratto seno al quadrato di x per 1 meno coseno di x fratto x quindi come dicevo ho moltiplicato e diviso per x in modo tale che questo è un limite notevole che è uguale a 1 mentre quest'altro pezzo sarà un altro limite notevole che sarà uguale a 0 a questo punto tutto l'intero limite risulta essere uguale a 0 concludiamo questo video facendo un ultimo quesito ovvero il numero 6 questo ci dice di stabilire se la seguente equazione ha sicuramente 1 e un solo 0 nell'intervallo indicato la nostra equazione sarà proprio seno al quadrato di x meno x meno 1 uguale a 0 nell'intervallo di meno pi greco mezzi 0 per risolvere questo quesito dobbiamo però rifarci al cerema di zeri dove possiamo scrivere che la nostra funzione in a è uguale proprio al seno al quadrato di meno pi greco mezzi più pi greco mezzi meno 1 che sarà proprio uguale a pi greco mezzi ovvero maggiore di 0 mentre la nostra funzione in b dove a era proprio il primo estremo quindi meno pi greco mezzi mentre b sarà proprio uguale a 0 quindi non sto facendo altro che prendere a e prendere b e andarle a sostituire al posto della x e quindi facciamo il seno al quadrato di 0 meno 1 che sarà proprio uguale a meno 1 che sarà minore di 0 a questo punto io vado a porre che la mia y deve essere proprio uguale a x più 1 ovvero al posto di questo meno x meno 1 io la mia funzione me la posso scrivere come seno al quadrato di x meno y uguale 0 ovvero y verrà proprio seno al quadrato di x a questo punto posso valutare le intersezioni delle due funzioni nell'intervallo richiesto quindi mi vado a fare il mio piano cartesiano mi vado a studiare la retta di equazione y uguale x più 1 che avrà una forma di questo tipo e passa per meno 1 mentre l'altra funzione ovvero y uguale seno al quadrato di x avrà questo andamento e arriva a 0 dove questo tocca la mia aste delle x nel punto meno pi greco mentre questo punto qui corrisponde a meno pi greco mezzi quindi le due funzioni si intersecano proprio in questo punto possiamo dire quindi che esiste almeno una x appartenente all'intervallo meno pi greco mezzi 0 che risulta essere uno 0 della funzione anche perché noi ci troviamo in questo intervallo qui quindi meno pi greco mezzi 0 e possiamo vedere che sicuramente vi sarà un punto di intersezione per stabilire però che sia unica bisogna considerare le due funzioni nel grafico quindi y uguale seno di x e y uguale x più 1 dove possiamo vedere che la nostra y uguale seno al quadrato di x è definita positiva nell'intero codominio e quindi nell'intervallo meno pi greco mezzi 0 risulta essere monotona decrescente mentre la nostra retta quindi y uguale x più 1 è monotona crescente quindi possiamo scrivere per concludere che esiste ed è unico una x segnato che appartiene appunto al nostro intervallo meno pi greco mezzi 0 tale che la nostra funzione sempre nella nostra x segnata sarà proprio uguale a 0 quindi con questo abbiamo concluso anche l'esercizio numero 6 per oggi abbiamo terminato io spero che sia tutto chiaro se avete qualche dubbio scrivetelo pure sotto nei commenti e come vi dicevo all'inizio se volete vedere qualche esercizio in particolare scrivetelo pure noi poi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo argomento ciao ciao